C'è un lavoro molto interessante di Adriano Prosperi che è giustizia bendata, l'immagine della giustizia che è spesso femminile, prevalentemente femminile, nelle sue accezioni di ordine simbolico positive e negative. Ora siamo in una struttura sociale nella quale il linguaggio è sempre più spesso un linguaggio di immagine e nella quale le immagini del diritto sono sempre più spesso spettacolarizzate. Allora, secondo voi c'è questa immagine femminile del diritto? Cosa si può pensare su questa immagine femminile del diritto in un mondo spettacolarizzato dove il femminile è spettacolo che spesso è uno spettacolo stereotipo, grottesco, eccetera? Chi risponde per prima? Io? Io sul diritto... No, in realtà, secondo me, l'immagine del diritto al femminile è già un po' equivoco come cosa, nel senso che, diciamo, la questione del femminile fa venire fuori l'origine in qualche modo violenta del diritto, nel senso appunto inteso come tanto le leggi quanto le pratiche giurisprudenziali, rispetto a un mondo invece di principi, appunto a quella condizione umana che invece è riflessa nella parola giustizia, infatti ad essere bendata anche a incassazione, ad esempio, è sempre giustizia. E' veramente proprio a essere personificata e quindi c'è proprio al di là della sua connotazione, diciamo, sessuata o di genere e questo principio, perché quello che è, diciamo, giustizia che tiene con sé l'equità, la non discriminazione, è una sorta di un principio di bene da realizzare, quasi un fine in senso proprio antico, più che una serie di strumenti per realizzarlo. Quindi questa tua domanda, secondo me, Alessandro, porta, diciamo, tocca una delle questioni che riguardano il rapporto fra, diciamo, il genere e il diritto, la neutralizzazione e il diritto e la, come dire, la potenzialità anche rivoluzionaria a modo suo dell'approccio, direi proprio dell'approccio femminista, perché questo è un approccio, appunto, riprendendo quello che dicevamo prima rispetto a uomo, umanità, che ha rimesso al centro, proprio a partire dall'idea per cui c'è uno dei due geni, c'è un lato del mondo che è stato sempre considerato, appunto, l'altro, no? Tanto nel secondo sesso della De Beauvoir, poi pensiamo anche a Speculum, cioè, quindi parlo proprio delle origini, in qualche modo, del femminismo e della differenza. E che cosa ha fatto? Ha fatto un'operazione politicamente, filosoficamente, sociologicamente dirompente, ma anche giuridicamente dirompente, per quanto questo aspetto sia stato esplorato relativamente poco, o comunque meno. E cioè, ha rimesso al centro il soggetto, appunto, chiamiamola così, e per quello ti dicevo, mi sembra interessante che sia giustizia essere personificata, a in qualche modo essere declinata all'interno di un corpo. Quando, se ti riesce a venire in mente una volta che le virtù sono personificate, il diritto può avere dei simboli, la spada, la stessa bilancia, già comunque fa sempre parte dell'ordine simbolico della giustizia. Però, appunto, ecco, l'ex porta a sé, generalmente, o la spada, appunto, la bilancia, la parola equus, che viene dal fatto che c'era il cavallo, appunto, rappresentato sulla bilancia, e quindi l'equità come strumento di commisurazione, però la personificazione, cioè l'immagine di qualcosa che nasce, esiste, patisce, entra in crisi, si, appunto, si individua, no, nel senso psicoanalitico, attraverso errori, crisi, e fino poi a, diciamo, a morire, è qualcosa che appartiene, appunto, al campo più dei valori, se vuoi, al campo più della, potremmo dire, della morale, in senso lato. E il femminismo, questo è uno dei tanti, diciamo, pregi, più che pregi, diciamo, come dire, di cose che ne andrebbero riconosciute, e che crea la possibilità di fare quello che tu dici prima, cioè di guardare rispetto al DPU, rispetto al diritto penale uomo, che la mostra idea era quella di guardare il diritto da un punto di vista critico, non intra-giuridico, no, tecnicistico, eccetera, come era, magari, l'analisi giurisprudenziale di diritto penale contemporaneo, ma differenziarsi rispetto a questa, per dire, il diritto io lo guardo come pratica sociale, fra altre pratiche sociali, come potrebbero essere la religione, l'equilibrio madre-figli, eccetera, e che, però, diciamo, fa cose, e fa cose che hanno degli effetti. Ecco, il femminismo, riportando l'attenzione sul soggetto, e quindi, appunto, sull'esistenza individuale, le pratiche, appunto, del femminismo e della differenza in Italia erano gruppi di ascolto, diciamo, di analisi collettiva, dove si partiva, appunto, dai racconti delle storie individuali, e secondo me, diciamo, questa operazione è già di per sé importante per immaginare un riposizionamento del diritto a partire dalla dimensione individuale, no? E invece meno come strumento, appunto, neutralizzatore, e anche, quindi, violentemente, ingiustamente, no? Quindi, contra l'idea della giustizia, che vuole realizzare qualcosa che è ogni volta diverso, perché il punto è proprio questo. E perché anche attraverso il linguaggio uno può fare giustizia? Perché quando non è neutralizzatore in quel modo, uno, diciamo, ciascuna esistenza può trovare espressione attraverso, o il linguaggio ordinario, appunto, il metalinguaggio come quello giuridico. E invece, quando il diritto, appunto, non si, non prova a mettersi nella posizione del soggetto, dell'individuo, dell'individua, è un'altra parola che, appunto, tipicamente, no? L'individuo, non, come dire, entra in un cortocircuito, no? Per cui quell'operazione di neutralizzazione continua a farla. Quindi, l'immagine femminile del diritto, in realtà, diciamo, se uno fa un po' di lavoro archeologico, è giustizia. Cioè, è l'altra faccia. Quindi, in qualche modo, dovrebbero essere interconnessi. Non è, appunto, un caso che ci sia giustizia tra altri giuristi romani. Però, se uno entra in Cassazione, ci sono vari giuristi romani, che, appunto, è la scienza del diritto. Però, poi, ci sono anche spesso rappresentate nei tribunali delle virtù, no? Ed è, appunto, è quell'infinito a cui tendere. Ma è un infinito che deve restare infinito, per non rischiare di ricadere nel meccanismo del neck utrum, che dice cosa sì e cosa no, che, appunto, è matrimone. E allora non funziona più come la regola, appunto, latina, no? Che diceva, fondamentalmente, non bisogna fare del male agli altri, eh? Ma, ma dà una forma, dà una forma che, però, in realtà, costituisce anche, poi, l'essenza delle cose. E allora non fa giustizia. Ecco, adesso, forse, magari sono andata un pochino a toccare dei canali troppo astratti. Però questo mi fa pensare l'idea dell'immagine femminile. Se posso ricollegarmi, non tanto sulla giustizia e il diritto, sì, adesso, appunto, sono reduce da un viaggio nelle città d'arte dell'Italia e avevo notato, appunto, questa, spesso, i pittori dell'epoca ritraevano, appunto, la giustizia come una donna con una bilancia e una, adesso non mi dico più, una spada. Però su questo non vorrei adrentrarmi perché non, non essendo una giuridica, non essendomi mai occupata di diritto, io feci, passato remoto ed obbligo, soltanto un esame di sociologia del diritto, dove, peraltro, mi ricordo che il mio docente, che probabilmente tu conoscerai quantomeno di fama, Valerio Poccar, mi chiese, ma questo è il discorso delle parole, secondo te ha senso, non dire, declinare le parole al femminile? E io all'epoca, che era degli anni 80, io mi dichiaravo femminista da quando ero piccolissima, negli anni 70, e però mi ricordo, mi rimasti in mente questa domanda all'esame, no? Perché io risposi, ma no, tutto sommato, non sono queste le cose importanti, no? Senza arrabbiarmi, però mi dicevo, ma no, cosa cambia, no? E allora, Angela prima diceva, adesso non mi ricordo le parole esatte, però il senso è che, appunto, in qualche modo la scelta delle parole nel diritto poi hanno delle conseguenze, lei ha usato altre parole, ma adesso non mi ricordo, ma il senso, se ho capito bene, hanno delle conseguenze concrete, cioè nel senso che la scelta di una parola piuttosto che un'altra poi in qualche modo modifica, ha un impatto sulla realtà, e questo perché le parole non solo plasmano il pensiero, ma creano la realtà, cioè quello che dicevano appunto le femministe dell'epoca, che continuiamo a dire oggi, è appunto ciò che non viene nominato è come se non esistesse, no? Per cui il fatto di non avere nominato le donne per tanto tempo, e attenzione, quando dico tanto tempo non dico, che ne so, fino all'ottocento, sto dicendo fino al 2010, nel senso che da pochissimo, perché se è vero che appunto le femministe della differenza hanno iniziato a sottolineare la rilevanza delle parole già negli anni 70, poi però di fatto la rilevanza di questo pensiero in qualche modo è stato messo un po' da parte fino a pochi anni fa, no? E quindi dicevo, adesso mentre parlavo stavo pensando a duemila collegamenti, quindi mi sono persa, scusate. Allora, dicevo, creano realtà, ecco no, ciò che non viene nominato non esiste. Io da appunto ex ragazza del Novecento ho studiato in un liceo dove, liceo classico nel quale i professori importanti, quelli di greco, di latino, di filosofia e di italiano, erano prevalentemente maschi, a differenza di quanto succede oggi, che però è, a mio parere, un indicatore del fatto che la cultura classica è meno prestigiosa. Vabbè, questo poi aprirebbe tutto un altro discorso. E per tutta la mia formazione, ho avuto docenti maschi anche per tutta l'università, io non ho mai avuto docenti donne anche all'università, se non qualche assistente, e tutto ciò che ho imparato era la storia, quella che mi veniva passata come la storia dell'arte, che era la storia dell'arte maschile, no? Non ho mai studiato nessuna pittrice, non avevo idea che esistessero delle pittrici, ma neanche me ne accorgevo perché, e voglio dire, io avevo incorporato il modello e quindi non mi interrogavo del perché non ci fossero mai delle pittrici donne, lo davo per scontato. La letteratura era quella, la letteratura italiana era letteratura degli uomini, degli scrittori uomini. Io credo di aver studiato forse, boh, forse una poetessa, non mi ricordo neanche più quale, no? E quando sono diventata grande, ho scoperto che Grazia dell'Edda era stata premio Nobel, dico, ma perché io non ho mai studiato nulla di Grazia dell'Edda, che pure era diventata premio Nobel, cioè, com'è possibile, no? Allora, ritornando alle parole, le parole creano la realtà. E allora, perché è importante iniziare a nominare le donne, ma iniziare a nominare anche le donne transessuali, a iniziare a nominare gli uomini transessuali, a iniziare a nominare i gay, le lesbiche, eccetera? Perché tutto ciò che non viene nominato è come se non esistesse. Per cui, ritornando al discorso che faceva prima, scusate, mi aggancio nel senso che sto ragionando proprio a ruota libera, non sto seguendo uno schema, sto seguendo, diciamo, sto seguendo le mie passioni, no? Quindi spero che all'ascolto ci sia una coerenza in questo mio caos, che dentro di me ha una coerenza, ma spero che riesca a rendersi anche all'esterno, no? Avvocata, avvocato, no? Tu prima, Francesca, nel tuo primo intervento, a un certo punto hai detto, dicono che differenza c'è dire avvocato, avvocata, no? Ecco, allora, due questioni. Una è il fatto che, poiché le parole creano la realtà, abituarsi a dire avvocata, ingegnera, ministra, sindaca, è come dire alle bambine e anche ai bambini di nuova generazione, cioè quelli che saranno le cittadine e i cittadini di domani. Tu come, in quanto donna, in quanto bambina, potrai fare tutta una serie di lavori, potrai diventare avvocata come pitrice, come fiorista, come qualsiasi altra cosa. Mentre io sono stata cresciuta, e probabilmente anche Angela, benché sia molto più giovane di me, in un mondo in cui l'avvocato era una professione maschile, il ministro era una professione maschile, l'ingegnere è ancora una professione terribilmente maschile. Per cui il messaggio, come dire, i sottotitoli che ci passavano, no? Quando sentivamo parlare è quello è un mondo maschile, perché l'arena pubblica è prevalentemente maschile. Dopodiché, se tu sei particolarmente caparbia, forte, testarda, eccetera, potrai anche diventare ministro, avvocato, eccetera. Quindi questa è una prima questione. Se noi continuiamo a usare un maschile neutro, non produrremo mai, non tanto in noi che ormai, cioè, più o meno giovani, ma comunque il nostro sguardo è plasmato, ma non riusciremo mai a produrre quella rivoluzione culturale per cui per le bambine sarà normale pensarsi avvocate, pompiere, ma anche saldatrici, muratore, non necessariamente legate al prestigio. C'è un bellissimo filmato che io forse ho fatto vedere a Milano, ma non mi sono certa, ovviamente inglese, perché le cose più belle purtroppo ancora, in Italia non abbiamo ancora questa consuetudine. C'è questo bellissimo documentario in cui a un certo punto, in un'in... scuola del... non mi ricordo più se dell'infanzia o elementare, primaria, scusate, le insegnanti dicono, benissimo, adesso parliamo di alcune professioni. Allora, pilota, disegnate un pilota e tutti disegnano un maschio. Come si chiama questo pilota? Ben, Johnny, Paul, eccetera. Allora, poi disegniamo un firefighter, lo dico in inglese perché... vabbè, pompiere, no, funziona, vigile del fuoco, funziona anche in italiano. Allora, come questi bambini, queste bambine, come hanno disegnato questo vigile del fuoco? Come un maschio, come si chiama questo vigile del fuoco? Antonio, Filippo, Giovanni, eccetera, eccetera, eccetera. disegniamo e così via. A un certo punto dicono, benissimo, adesso voi avete disegnato tutte queste figure, adesso ve le facciamo conoscere. Entrano quattro donne, una vigile del fuoco, una pompiera, una pilota, eccetera, eccetera, eccetera. Vestite secondo gli abiti della professione. Una bambina dice, sono travestite, no? Cioè, come dire, no? Cioè, anche di fronte all'evidenza, questo che cosa ci dice? Che le parole condizionano tantissimo anche il nostro immaginario. Per cui, continuare a parlare, come dire, a declinare al maschile le professioni, significa trasmettere un immaginario, no? Un immaginario nelle quali le bambine faticano a vedersi in posizioni che la tradizione considera maschili. E allo stesso modo, i bambini non riescono a immaginare le loro compagne in posizioni che la tradizione considera maschili. Un'altra questione importante. Allora, questo è l'impatto, vuol dire, perché è importante quindi dire avvocata, ingegnera, per modificare lo sguardo, per modificare l'immaginario, per far sì che per le future generazioni possa essere meno difficile rompere le gabbie di genere e quindi rompere le aspettative di genere. Però c'è anche un'altra questione. Allora, ci si arrabbia moltissimo sull'avvocato, avvocata. Non sono queste le cose importanti, anzi, molte donne avvocate preferiscono essere chiamate, essere declinate al maschile. Perché? Perché il maschile conferisce prestigio. Noi donne abbiamo interiorizzato il sessismo e quindi abbiamo spesso la percezione che se la nostra professione se prestigiosa viene declinata al femminile è come se perdesse un po' di prestigio, no? Allora, quindi ci arrabbiamo moltissimo e a volte anche le avvocate si arrabbiano moltissimo quando decidiamo di declinare al femminile una professione prestigiosa, nessuno ha niente da dire se diciamo operaia, contadina, cameriera, eccetera. Quindi, attenzione, in qualche modo c'è una resistenza che ha a che fare con le gerarchie tra femminile e maschile e ha a che fare anche col prestigio delle professioni. Per cui, tanto più una professione è prestigiosa, tanto più ci si arrabbierà in caso di declinazione della professione femminile. Cioè, come dire, tutto questo ha a che fare col potere e col prestigio. Col potere maschile e in particolare col prestigio di alcune professioni. Tant'è vero che c'è anche il fenomeno della cosiddetta polarizzazione semantica. per cui la stessa parola se declinata al maschile o al femminile assume una connotazione completamente differente. Maestro, maestra. Se io dico maestra, tutti noi, ma anche io e Angela che pure siamo avvertite, studiose del tema, eccetera, pensiamo ai grandi maestri, a quelli che hanno in qualche modo influito, pensiamo a Mutti, pensiamo a Schopenhauer, pensiamo a seconda del contesto, pensiamo ai grandi uomini che hanno in qualche modo fatto la differenza. Se io dico maestra, penso a una figura che nell'immaginario è anche positiva, perché la maestra non ha, per chi noi ha avuto la fortuna di avere delle maestre significative, ha una però, cioè, se io devo dire che, se io fossi medica, dovessi dire che Rita Levi Moltencino Moltencino è la mia maestra, suonerebbe strano, suonerebbe una forzatura. Ma pensate a segretario e segretaria. Allora, se io appunto metto su Google la voce Google Immagini, la parola segretario escono segretari di partito, segretari comunali, segretari qualche figura che hanno in qualche modo una certa statura, un certo prestigio. Se metto segretaria, escono invece delle donne come dire, che hanno un ruolo invece, più diciamo la segretaria quella classica e molto spesso anche la segretaria sexy. Devo dire che negli ultimi 15 anni qualcosa è migliorato, nel senso che quando feci questo esercizio 15 anni fa per prepararmi a una conferenza su questi temi, io mettendo segretaria, su Google Immagini mi veniva la prima voce era segretaria buona e c'era tutta una serie di immagini che vi lascio immaginare proprio molto molto volgari. Adesso c'è segretaria sexy, quindi un po' meno volgare, però c'è comunque una donna giovane magari con i capelli legati agli occhiali e mi veniva in mente quei film degli anni 50 in cui la segretaria un po' bruttina poi si scioglieva i capelli toglieva gli occhiali e diventava bellissima. Per cui qualcosa è migliorato però ma l'esempio più eclatante è il governante e la governante sono due professioni che non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra per cui come dire quando parliamo di declinazioni di genere del linguaggio stiamo parlando delle differenze di potere e di prestigio e per questo è importante in qualche modo fare attenzione alle parole che usiamo tanto più giustamente come dice Angela nel diritto perché questo poi ha delle conseguenze concrete Angela il giudice maschio amministra la giustizia donna non esiste una declinazione femminile di giudice no? beh però se intanto uno dice la giudice la magistrata la magistrata sì però ok no che giudice credo che proprio da un punto di vista del diciamo come dire linguistico essendo tra l'altro sì e con E finisce per E quindi ha questo gioco della O contro A no però insomma c'è modo per declinare anche quella femminile se decisamente non è non è quello punto